Siamo tutti seduti, grazie. Buonasera a tutti. Questa è l'assemblea fondativa di Sinistra Democratica Campo Aperto, la prima assemblea che si svolge a Lecce e nel Salento, l'assemblea costitutiva. Ringraziamo innanzitutto i presenti ma ringraziamo soprattutto Gianni Cuperlo per la sua presenza che appunto con la sua presenza suggella la nascita di questa associazione qui nel Salento. Giacomo Fronzi svolgerà la relazione e spiegherà la funzione e il ruolo di questa associazione, poi seguirà l'intervento di Gianni Cuperlo e noi pensiamo di svolgere i lavori in questo modo, cioè dopo la relazione di Gianni Cuperlo e di Giacomo Fronzi di aprire un dibattito tra i partecipanti. Tutta l'assemblea dovrebbe concludersi intorno alle 20.30, quindi anche il dibattito dovrà essere contingentato purtroppo per consentire poi a tutti di poter prendere la parola. Io penso che possiamo iniziare i lavori e do la parola a Giacomo Fronzi. Si sente? Sì, sarà stata fatta la prova prima. Bene, buonasera a tutti e vi sono particolarmente grato per essere qui stasera. Siete tanti e la vostra presenza e la pluralità delle vostre voci e delle vostre posizioni dà concretezza allo spirito e alle finalità di Sinistradem Campo Aperto. Quindi io ringrazio tutti e ringrazio tra gli altri, potrei dimenticare qualcuno, magari ancora qualcuno non è arrivato, ma insomma per chi ho visto e ho sentito saluto il nostro segretario regionale Michele Miliano che sarebbe voluto essere qui, che non è potuto essere questa sera con noi e anche la vice segretaria Sandra Antonica che ho sentito poco fa. Anche il ministro Brahi che tra l'altro fa parte insieme a noi del coordinamento nazionale di Sinistradem sarebbe dovuto essere con noi ma era impegnato in Emilia, l'ex ministro. Anche il segretario provinciale Salvatore Piconese manda i suoi saluti e arriverà breve. Vincenzo Toma è il nostro vice segretario provinciale, Paola Povoro è il nostro presidente dell'assemblea provinciale, Antonio Maniglio vicepresidente del Consiglio regionale, Luciano Marrocco segretario provinciale dei giovani democratici e poi come ospiti e amici abbiamo anche le segreterie dei tre sindacati, le tre sigle, le segreterie provinciali di Cigelle e Cisleuilo, ho visto Salvatore Giannetto ma anche Piero Stefanizzi e Salvatore Arnesano e anche manda i suoi saluti Maurizio Manna, il direttore di Lega Ambiente Puglia. Un saluto e un ringraziamento io personalmente lo rivolgo anche a Sandro, a Sandro Frisullo che con generoso e disinteressato impegno sostiene questo nostro progetto politico. E grazie naturalmente all'onorevole Gianni Cuperlo, a Gianni che stasera è con noi per l'assemblea costitutiva di Sinistradem Salento. Poco dopo la vittoria alle elezioni europee eravamo insieme a un incontro di Sinistradem a Milano con Gianni il 28 giugno scorso e in quell'occasione Gianni inizia il proprio intervento con queste parole. Quando tutto cambia ci si tolgono le magliette di prima e si riparte dalle idee, dal legame con la realtà e una società che nella sua parte migliore chiede uguaglianza, diritti, laicità. Come può stare ma soprattutto cosa può essere la Sinistra dentro questo nuovo corso? Ho voluto iniziare anche io con queste parole, con questa citazione perché credo che vi sia sintetizzata una parte importante, quella fondante delle motivazioni che hanno portato Gianni e poi tutti noi ad animare e organizzare l'associazione Sinistradem Campo aperto che si è costituita ufficialmente lo scorso 4 ottobre a Bologna. Alla nascita di Sinistradem si è giunti attraverso una serie di passaggi che sono sostanzialmente tutti scaturiti dal felice incontro tra l'esperienza di grande spessore, seppur breve, del centro studi del Partito Democratico e con Gianni ci siamo conosciuti in quel contesto e il centro studi è stato diretto da Gianni fino a circa un anno fa e soprattutto l'entusiasmo suscitato dalla sua candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico nel 2013. E ho voluto specificare questo perché Sinistradem vive di una dinamicità politica in senso davvero ampio, non solo legata all'attività del Partito Democratico. L'associazione infatti si pone come un campo di discussione e di confronto aperto a figure interne ed esterne al PD e nasce a partire da una doppia esigenza, quella di dare concretezza nel Partito al bisogno sempre presente a tutti i livelli, dal simpatizzante al dirigente nazionale, di discutere, di farlo però guardandosi negli occhi e di discutere delle questioni più dirimenti per noi e soprattutto per le persone, per i cittadini. Ma vi è anche un'altra esigenza, quella di aprirsi all'esterno all'interlocuzione con le forze migliori della società, con l'obiettivo di formulare strategie di ripresa e di progresso economico, civile, culturale, morale, strategie però condivise e quanto più ampie possibile. Questo Sinistradem intende farlo non agitando forze interne contrappositive, anzi è necessario che si superi ogni tentazione divisiva, ogni opposizione muscolare che vada oltre i limiti di una ragionevole e produttiva dialettica, senza però avere la pretesa né da parte nostra, si intende, né da parte di chi qui non si sente del tutto a casa, di prevaricare e liquidare con sufficienza o irrispettosa ironia soluzioni e ipotesi alternative a quelle della maggioranza. Si tratta allora di dare corpo a un luogo, a un contesto interno al PD dentro il quale rifettere, porre problemi, ipotizzare soluzioni, avendo come fare un'idea chiarita spesso da Gianni, avere cura per il destino delle persone, per la loro quota di felicità che dovrebbe spettare in dote a ciascuno di noi. Cosa c'è di più concreto di un ritorno della politica a parlare non solo e non soprattutto di numeri ma di persone, non solo e non soprattutto di economia ma di socialità, non solo e non soprattutto di percentuali ma di speranza. E Sinistrademe cerca di concentrare l'attenzione su ciò che si agita nel mondo reale, in una società che sanguina e che merita da un partito come il PD una nuova accelerazione in termini di elaborazione di un pensiero critico, di una riflessione, di una visione complessiva che non sostituisca gli strumenti agli obiettivi e che quindi rimetta al centro la persona. Per poter raggiungere questi ambiziosi risultati è necessario superare quei conflitti anche a livello locale che troppo spesso hanno citato il PD, restituendo a quest'ultimo un'adeguata discussione sui temi che gli sono propri, lavoro, ambiente, legalità, diritti, cultura, democrazia. Occorre però affrontare con serenità e obiettività il tema della nostra collocazione, della nostra identità, della stessa esistenza della sinistra. Come ha scritto Carlo Galli, il problema dell'esistenza della sinistra va posto insieme a quello della sua essenza, ovvero per capire che cosa eventualmente può essere, si deve capire che cosa eventualmente può fare. E allora occorre chiedersi, al di là di ciò che siamo stati, che cosa vogliamo essere e quale forma partito vogliamo darci. Perché è indubbio che la qualità dei contenuti e il loro sviluppo non può che partire dalla migliore forma all'interno della quale custodire quei contenuti. Forma e contenuto, ce l'ha insegnato sebbene in un altro contesto anche dei sanctis, sono assolutamente interconnessi. Tal forma, tal contenuto. Anzi, la forma non è qualcosa che vive di per sé autonomamente staccata, diversa dal contenuto, quasi fosse un ornamento o un'aggiunta. La forma invece è essa stessa generata dal contenuto. Quindi i contenuti generano la forma. E le ultime vicende interne al nostro partito in effetti confermano che a seconda dei contenuti privilegiati cambia la forma partito che sembra essere più adeguata a contenerli e a dargli vita concreta. Non si tratta quindi di una mera, semplice, banale questione formale. Anzi, parlare della forma partito significa porre il tema della qualità e dell'efficacia della politica e quindi della democrazia. Crisi dei partiti, crisi della politica e crisi della democrazia rappresentano tre momenti profondamente interrelati e che rinviano l'uno all'altro. I limiti della democrazia sono strutturali alla democrazia stessa e pertanto la riflessione attorno a essi ha attraversato, come sappiamo, la storia del pensiero. Ma oggi le ambiguità della democrazia si arricchiscono di nuovi e inediti elementi che contribuiscono ad accentuarne la portata. Possiamo citarne alcuni. L'emersione di nuovi populismi, la fame di democrazia di alcuni popoli soddisfatta con il sangue, una finanziarizzazione generalizzata delle relazioni fra gli stati, la crisi del concetto tradizionale di sovranità, l'esigenza di nuove forme di partecipazione alla vita pubblica, la necessità di favorire quella che Danny Rodrik ha definito una globalizzazione intelligente. Il tema della cittadinanza, la tutela dei beni comuni. E allora su questi piani che si gioca la qualità riflessiva e pratica dei partiti, sottolineando come una più forte connotazione democratica dipenda da una rinnovata spinta propulsiva messa in campo da essi. Emerge quindi in tutta la sua scottante attualità il problema della funzione dei partiti. I partiti che certo non possono limitarsi a una funzione di mero trasferimento di domande o di richieste provenienti dalla collettività, devono strutturarsi nella forma della elaborazione e della formulazione di progetti, al di là però di uno sterile programmismo e di una tendenza, affermatasi negli ultimi tempi, verso un'idea di partito inteso come comitato elettorale permanente. Il PD non deve allora indebolire ma rafforzare e rendere più efficiente il proprio sistema organizzativo, così come deve ripensare le modalità di selezione interna, anche, perché no, riconsiderando lo strumento delle primarie. Deve formare e selezionare una nuova classe dirigente seguendo criteri politici e meritocratici e mai privilegiando le peggiori logiche d'apparato, tra l'altro saremmo nella contraddizione di adottare logiche d'apparato in assenza di apparato, logiche centrate su fedeltà e o cooptazione. Il partito a cui pensiamo quindi non è soltanto un partito di eletti e di elettori. Un'impostazione di questo tipo tende a dimenticare e a sostituirsi al partito degli iscritti, dei militanti, di coloro che da volontari dedicano parte della propria vita al partito, a quella comunità nella quale si riconoscono e della quale condividono i principi e i valori fondanti. Chi considera prioritaria la discussione sui diritti, sul loro rafforzamento e sulla loro estensione, il buon diritto, ha scritto Molière, ha bisogno d'aiuto. Chi considera prioritaria la riduzione delle disuguaglianze, un più ampio accesso alla cultura, una più energica difesa del patrimonio civile e culturale custodito nella storia politica della sinistra e di un certo pensiero cattolico. Chi sente impellente la necessità di privilegiare le ragioni dei più deboli e di chi sofferente ci viene incontro difendendone i diritti, pur nella più generale salvaguardia di tutti gli ingranaggi costitutivi, la grandiosa macchina sociale. Ecco, chi ha questa visione dell'impegno politico non può chi avere in mente una precisa forma partito, che non contempla singolarità in conflitto, ma condivisione e reciproca legittimazione. Pensiamo allora a un partito che non si lasci ammaliare dalle tendenze alla personalizzazione, magari efficaci nel breve termine, ma fallimentari nel medio-lungo termine. Un partito che cerchi di tenere unito ciò che sembra irrimediabilmente diviso, che provi a ripartire dalla ricchezza delle differenze per giungere a una nuova unità. Perché un partito che non sopravvive al proprio leader è destinato al dissolvimento. Pensiamo allora a un partito che non vive solo dei successi del passato e che sono stati consegnati alle pagine della storia, che però a quei successi guarda come un modello di binomio, teoria, pratica che riesca a condurci verso possibili nuovi traguardi. Pensare in questi termini, tutt'altro che regressivi e nostalgici, non significa pensare a un partito come un corpo morto, ma al contrario pensarlo come corpo vivente, la cui esistenza e resistenza dipende in ultimo dalla presenza viva e vitale della gente, dei simpatizzanti, dei militanti, di tutti coloro che non conservano la loro tessera nel portafogli semplicemente per dargli più volume, ma perché in essa proiettano un'intera visione del mondo e dei rapporti tra le persone. E noi queste persone non possiamo, non dobbiamo permettere che stancamente retrocedano, che quasi fosse un inesorabile destino, abbandonino il campo. Senza di loro noi non esistiamo e ne abbiamo avuto una prova di recente con le elezioni regionali in Emilia-Romagna dello scorso novembre. E questo è un tema che non possiamo non toccare. È vero, abbiamo incassato in Emilia-Romagna un'altra vittoria, senza dubbio, ma non possiamo evitare di guardare a questo successo in modo più organico. Innanzitutto focalizzando l'attenzione sul perché della fuga dalle urne. Fuga che pone un importante problema di rappresentanza che la legge elettorale, in discussione, dovrebbe risolvere. Non in termini però di ulteriore riduzione dei suoi confini, dei confini della rappresentanza, già erosi dalle nuove modalità di elezioni dei consiglieri della provincia, che sarà l'area vasta, dei presidenti delle città metropolitane e dei senatori. Come ha ribadito più volte anche Gianni, per quasi un decennio abbiamo detto che gli elettori devono poter guardare in faccia e negli occhi gli eletti, salvo poi ridurre le occasioni di scelta nell'elezione dei propri rappresentanti, ma compensarle con la scelta del segretario del principale partito italiano, attraverso le primarie. Trasferendo il meccanismo di base della democrazia rappresentativa, ha scritto Gianni, dalle istituzioni a una singola formazione, forse in futuro più di una. Ha ragione Gianni, dare corpo a questo progetto, proprio in un momento in cui società e istituzioni paiono lontane, lontanissime, sembra essere un azzardo, perdendo invece l'occasione per ricostruire un rapporto di fiducia verso le assemblee elettive di matrice popolare. Saranno allora da cercare anche qui le motivazioni dell'alto livello di astensionismo alle elezioni regionali di due mesi fa. È vero, il mondo è cambiato, la mobilitazione di una volta forse sarà un vecchio ricordo, anche nelle cosiddette regioni rosse. Tutto ciò, lo sappiamo, è evidente, è un segno dei tempi, della modernità post-ideologica, si potrebbe dire, quasi superfluo ribadirlo. Tuttavia l'assenzionismo emiliano-romagnolo non è e non può essere un dato neutro e quindi da sottovalutare. Il Partito Democratico ha perso per strada oltre 300.000 voti. È vero, è difficile mobilitare in tempo di crisi, è difficile convincere in tempo di crisi. Certo, è come se ciò non bastasse quando si è disorientati e prostrati, si è tentati di usare il voto in modo acritico, come arma impropria per dimostrare un giusto risentimento contro chi ci ha delusi, chi ha disatteso le nostre speranze e trascurato i nostri diritti. Perché l'esistenza di un diritto è sempre precaria, è sempre sotto scacco. Come ha sostenuto il giurista e filosofo politico Henkin, il fascino di questa idea dei diritti non basta a garantire che sarà accettata. Dare veste giuridiche al concetto dei diritti non serve a garantire che questi verranno rispettati. È per questo che occorre una classe politica responsabile che convintamente sostenga la centralità di questa nozione. E badate bene, le persone hanno ben chiaro questo aspetto. La difesa dei diritti e non meramente degli interessi è alla base di ogni scelta politica. E il Partito Democratico lo sta facendo? Lo sta facendo fino in fondo? Lo sta facendo appieno? Da quasi un anno sulla spinta propulsiva e travolgente del nostro segretario nazionale e premier Matteo Renzi si è avviato un acceso dibattito sulle riforme e meritoriamente si sono posti al centro della discussione temi e questioni fondamentali come il lavoro, l'economia, le riforme costituzionali, la scuola. Ma abbiamo affrontato al meglio queste sfide. Ci siamo interrogati sugli interlocutori che la maggioranza del PD ha privilegiato, sulle modalità con le quali si sono affrontati questi problemi all'interno del nostro partito e del nostro gruppo parlamentare, ma anche al suo esterno. Così come ha sollevato dubbi l'approccio con il quale Renzi si è rapportato con i corpi intermedi, in particolare quello di cui è segretario nazionale e quello costituito dai sindacati. Una parte del nostro partito ha scelto il dialogo diretto con i cittadini, un dialogo senza mediazioni né mediatori. Ma con quali strumenti? Con Facebook? Con Twitter? Sono strumenti utilissimi e evidenti al giorno d'oggi, ma il punto è che non possono né devono sostituire un altro genere di dialogo, quello che ha caratterizzato per lungo tempo la sinistra italiana. Un dialogo condotto casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, guardando personalmente le difficoltà quotidiane, il dolore e la sofferenza di chi si aspetta, non sappiamo ancora per quanto, che ciò che affligge la propria esistenza quotidiana, possa trovare diritto di cittadinanza e di rappresentanza nel PD, nel più grande partito della sinistra europea. Quando la politica restringe la propria cerchia di interlocutori e quando la politica riduce la platea di coloro che con ansia crescente attendono il momento in cui si sentiranno davvero sostenuti, quando una grande forza di centro-sinistra non bilancia adeguatamente le proprie componenti, il centro e la sinistra, smarrendo la vocazione per l'estensione delle tutele, dei diritti e delle uguaglianze, allora qualcosa di importante si è perduto e occorrerà allora tornare a hissare nuove e vecchie bandiere, a individuare insieme limiti oltre i quali ragionevolmente non spingersi. La responsabilità legata al carico di attese e di aspettative che gravano sul PD deve significare l'accettazione della sfida del cambiamento, un cambiamento che possa però appoggiare su un più accettabile rapporto tra democrazia e cosiddetti poteri forti, tra popoli e mondo politico, tra vecchi e nuovi diritti e vecchi e nuovi doveri. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi però deve essere garantita senza se e senza ma la nostra credibilità, troppo spesso minata e svilita dalla corruzione e dal malaffare, ne abbiamo avuto un recente ennesimo esempio grave con l'inchiesta Mafia Capitale. Nonostante il sindaco Marino rappresenti un'eccezione rispetto all'amministrazione della Capitale, il PD ha chiarito immediatamente la propria posizione di netta lotta al malaffare e alle zone grigie dei rapporti tra politica, imprenditoria e società. Con ciò ribadendo la volontà di rifiutare con fermezza quei comportamenti e quelle condotte delinquenziali e criminali che la politica non deve mai tollerare, ma che deve combattere tanto al suo interno quanto all'esterno. Come ci ha ricordato Giorgio Napolitano nel suo ultimo discorso di fine anno da Presidente della Repubblica, la politica deve contribuire energicamente a bonificare il sottosuolo marcio e corrosivo della nostra società. L'inchiesta Mafia Capitale inchioda la politica alle proprie responsabilità. Responsabilità che dobbiamo intendere nel senso di etica della responsabilità, per come la definisce il sociologo Max Odeber, vale a dire come l'etica che deve contraddistinguere chi vuole mettere le mani negli ingranaggi della storia. Quanto di tutto ciò è presente in maniera diffusa e capillare nel sistema politico, amministrativo e burocratico italiano? Non c'è scelta politica e amministrativa che non venga fermamente posta sotto il cappello protettivo e a larghe falde della responsabilità. E ben inteso si tratta di un richiamo a cui non si deve mai derogare, però il problema sorge nel momento in cui a questa dichiarazione di intenti non corrisponde una pratica della responsabilità che passa anche per un più trasparente uso dei denari che inevitabilmente la politica si trova a gestire. Non può esservi attività politica senza risorse finanziarie. Noi stessi ci autofinanziamo, anzi c'è un banchetto per le sottoscrizioni volontarie qui fuori. Subentrando però l'elemento monetario entra in scena la dimensione affaristica a cui si è tentato di rispondere per quel che riguarda i partiti con l'abolizione del loro finanziamento pubblico. Questa abolizione, pensata come immediata e neanche troppo simbolica risposta ai cittadini, resi spettatori di un diffuso malaffare legato all'utilizzo di soldi pubblici, ha sollevato più di qualche perplessità. Personalmente ho considerato questa soluzione una potenziale premessa all'emergere di un male ancora peggiore di quello che si voleva estirpare. Alla luce dei recenti scandali romani, lombardi e veneti, verrebbe allora da chiedersi, come tra l'altro recentemente fatto anche Gianni, se con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti abbiamo fatto la scelta migliore. Forse si sono sottovalutate le conseguenze dell'aver affrontato la questione morale dell'intreccio tra politica e affari ricorrendo a essa. Probabilmente sarebbe stato più utile ed efficace rivedere e rimodulare i meccanismi di gestione del finanziamento pubblico, salvaguardando al massimo trasparenza, legalità e onestà per evitare di avere a che fare sempre con lo stesso problema dalle radici millenarie, la corruzione appunto. Mafia Capitale ovviamente non va assunta come modello negativo della politica italiana to cure, né come strumentale mezzo per colpire un'intera classe politica o un intero gruppo di politici. Indistintamente. Ma come ennesimo preoccupante campanello d'allarme sicuramente sì. Vale la pena allora ribadire con forza che è possibile fare politica in modo diverso e che ci sono migliaia di militanti, dirigenti di partito e amministratori che vivono il proprio impegno all'insegna di quell'etica della responsabilità a cui sopra mi sono richiamato. Chi fa proprio un profondo e radicato senso di responsabilità allora non potrà che concepire la politica come qualcosa che penetra la carne viva ma lacerata della società non per risucchiarne le residue energie vitali quanto invece per migliorarne e potenziarne le condizioni appunto con responsabilità. Per concludere credo che nei territori e qui nella nostra provincia Sinistradem oggi possa fornire un valido contributo rispetto alle poche questioni che qui ho richiamato sintetizzabili in pochi punti. Uno recuperare al più presto il rapporto con la base il cui ruolo troppo spesso è stato subordinato a scelte di palazzo e a logiche d'apparato. Due avviare un processo di rigenerazione e rivitalizzazione delle strutture del partito cercando di superare gli antagonismi che hanno tenuto sotto scacco la vita del PD a tutti i livelli da quello nazionale a quello locale. Tre cercare di ricostruire un'identità politica che possa riconciliare con il Paese le storie che sono confluite nel PD, facendo sì che il catalizzatore e il collante delle voci che nella loro differenziazione rendono vitale un partito plurale, aperto e democratico come il nostro sia la qualità dell'esistenza e della democrazia. Quattro, riaprire il cantiere di una sinistra moderna, plurale, sicura e orgogliosa di sé e del proprio passato, ma anche aperta alle sfide e ai bisogni del cittadino globale, del cittadino del terzo millennio. Una sinistra quindi che, ben lontana da tentazioni nostalgiche che sarebbero da considerare conservatrici e conservative, sia capace di spostare più in là i propri confini, di coinvolgere le forze dell'associazionismo, del civismo, dei movimenti, le forze sociali e culturali con le quali possiamo condividere programmi e obiettivi importanti. Quegli obiettivi che diventano dirimenti per l'esistenza quotidiana di ognuno di noi. E Sinistradem lo intende fare concretamente, in aula come in piazza, nelle commissioni parlamentari come nelle strade e nei circoli. È stato evidente l'apporto che Sinistradem ha fornito alla discussione sulle riforme del mercato del lavoro, della legge elettorale, dell'assetto istituzionale e sulla legge di stabilità. Ricordo soltanto l'accento posto sullo squilibrio della spesa tra politiche del lavoro passive e attive, il confronto sull'articolo 18, peraltro già superato con la riforma Forner, lo stop sui licenziamenti collettivi e sull'eventuale applicazione del Jobs Act agli statali. È ancora la richiesta di una legge elettorale che salvaguardasse la rappresentanza di genere, eliminasse le liste bloccate, compresa l'ipotesi dei soli capilista, e che entrasse in vigore con l'approvazione della riforma costituzionale. E ancora gli emendamenti alla legge di stabilità 2015, presentati da Gianni insieme a Fassina, a Civati, a Margherita Miotto e ad altri parlamentari. Emendamenti legati dal filo rosso della necessità di marcare di più il carattere espansivo della manovra e la suonatura redistributiva. E allora Sinistra Dem è qualcosa di più, molto di più, che una semplice area di dissenso. Noi di Sinistra Dem intendiamo stare saldamente nel PD, anche nel PD di Matteo Renzi, con lealtà ma anche con autonomia di pensiero e convinti di non poter accettare compromessi sul piano di principi e dei valori che costituiscono la nostra ragione d'essere e la nostra funzione nella società di oggi. A noi di Sinistra Dem è chiaro che cedere al gioco dei compromessi e delle strategie da sotto bosco metterebbe a rischio il nostro ruolo critico e la nostra identità. In altri termini rischieremmo ovviamente la scomparsa, ma è pur vero che lo stesso Partito Democratico rischierebbe, non mi azzardo a dire il tradimento, ma quantomeno lo snaturamento della propria fisionomia e del proprio ruolo storico. E allora a chi da più parti e da ormai parecchio tempo si chiede in modo non retorico che cosa sia la Sinistra e quale sia la sua funzione oggi, noi tenteremo di rispondere con il nostro progetto e con le nostre proposte. Alla fermezza e alla solidità di queste convinzioni si affianca tuttavia la volontà ugualmente ferma e solida di tenere sempre aperto il dialogo e anzi estenderlo quanto più possibile. Siamo sempre aperti alla interlocuzione pur che essa sia sempre collocata all'interno di una chiara cornice politica e di merito e quindi non sia asservita a logiche di altro tipo. Questa è per noi un'inderogabile premessa e una condizione preliminare indispensabile alla realizzazione degli obiettivi e dello spirito di Sinistradem. Sono convinto che Sinistradem e Sinistradem Salento possano giocare un ruolo importante nella vita interna ed esterna al nostro partito, fungendo anche da ponte, da termine medio, tra elementi talvolta troppo distanti. Sinistradem Salento che già ha avviato una fase di radicamento nella provincia e di strutturazione territoriale e questo è testimoniato stasera anche dalla presenza di molte amiche e amici provenienti da varie parti della provincia, Lecce, Trepuzzi, la mia città, Cavallino, Nardò, Corigliano, Galatina, ma anche più in là, Veglie, Tricase, Poggiardo, Manduria, Grottaglie, Brindisi. Sinistradem Salento, dicevo, credo possa sollecitare e contribuire a equilibrare componenti che paiono contrapporsi inesorabilmente e inevitabilmente. La preferenza accordata in senso pressoché esclusivo al successo elettorale è la presenza chiara e convinta di un pensiero di sinistra. il bisogno di partecipazione e l'autorevolezza del partito e dei suoi vertici, le esigenze della contemporaneità e una dinamica partitica più congeniale a una certa cultura politica, un più adeguato dibattito interno ed esterno e il momento decisionale. Rispetto a queste polarità, e vado a concludere, Sinistradem Campo Aperto può costituire una via intermedia che potrà tenere insieme tendenze direttrici diverse, così come tiene già insieme esperienze politico-culturali diverse e ne è prova la coesistenza di rappresentanti di generazioni diverse, come potremmo essere anche io e Gianni Cuperlo. In fondo, cosa potrebbero condividere all'interno di uno stesso partito un giovane poco più che trentenne attivo in politica da alcuni anni, con figure dai grandi trascorsi, in questa sala ce ne sono molte, moltissime, credo che ciò che può unirci è il modo in cui intendiamo la nostra visione delle cose, la nostra azione politica, le priorità che essa pensiamo debba darsi e soprattutto ciò che più ci unisce è la condivisione di principi e di valori senza tempo, diritti, uguaglianza, dignità, libertà, giustizia, che noi consideriamo al di là della suggestività terminologica nella pregnanza e nell'urgenza della loro attuazione. E a proposito di libertà e di giustizia, voglio concludere questa mia relazione con le parole di Norberto Bobbio. La libertà è il valore supremo dell'individuo rispetto al tutto, la giustizia è il bene supremo del tutto in quanto composto di parti. O in altre parole, la libertà è il bene individuale per eccellenza e la giustizia è il bene sociale per eccellenza. Grazie a tutti.